Tre interdittive antimafia sono state emesse dal prefetto di potenza Michele Campanaro nei confronti di un'impresa individuale e di due aziende societarie della provincia. Salgono così a otto le misure di questo tipo intraprese da inizio anno con un lieve incremento rispetto allo stesso periodo del 2022. Un lavoro di prevenzione, ha commentato il prefetto, che trova giovamento dall'istituzione della sezione operativa della direzione investigativa antimafia e dal rafforzamento di presidi come quello costituito con la ragioneria territoriale dello Stato per i controlli antimafia sulle misure della PNRR.